Stiamo andando il via, questa è la prova giusto? Sì, tutto è pronto, siamo in perfettissimo orario, partiamo, chiudiamo la strada e si dà il via alla gara con il giro di ricognizione a cui seguiranno tre giri di gara vera e propria. Ci siamo lasciati ieri sera, adesso quanti sono i partecipanti, il numero sono le autovetture che vediamo qui parcheggiate. Sì, veramente un numero ragguardevole per i periodi, siamo a 73 verificati, quindi 73 macchine che prenderanno il via di tutte le categorie. Noi abbiamo 31 macchine come scuderia, speriamo bene, in bocca al lupo a tutti. Ci spiego un attimo le categorie, come sono, formate? Le categorie partono, come vedete, dal gruppo N, il più basso, 1150, fino ad arrivare agli sport, alle formule, quindi è un via via crescendo, un crescendo di... Possiamo dire una gara ricca quest'oggi. Ricchissima direi, e quindi facciamo gli scongiore come sempre, noi che siamo sempre più preoccupati e speriamo di divertirci tutti. La sicurezza stiamo curando gli ultimissimi particolari, ma sembra che siamo al top, speriamo che tutto vada bene. Presidente, tutto pronto per questo terzo slalom, città di Oppidome Martino? Sì, sì, finalmente con sacrifici e collaborazione da parte di tutti, nessuno escluso, siamo arrivati alla terza edizione, molto bella, anche forse più bella dell'anno scorso. Cerchiamo di migliorare le qualità ancora, l'anno prossimo, se Dio vuole, siamo pronti per la partenza, siamo un po' stanchi, però siamo felici, grazie di tutto. Anche lei oggi partecipa a questa gara, ecco, questo slalom? Diciamo di sì, perché comunque ormai è consolidato il mio ruolo anche da pilota e quindi mi fa piacere soprattutto che corriamo in casa, di aver organizzato questa bellissima gara. In bocca al lupo è che vinca il migliore, speriamo che tutto vada bene nel migliore dei modi, grazie. Siamo a parte della scuderia? Scuderia piloti per passione. Deve arriva? Deve arriva? Reggio Calabria. Ecco, la trenolina, abbiamo un po' di trenolina? Ne abbiamo abbastanza. Senta, che risultato vogliamo portare? Speriamo il primo posto nella classe. Lei si diverte quando fa queste gare? Sì, abbastanza. È una sua passione? È una passione che uno lo fa con lo spirito proprio. Questa che macchina è? Una Fiat X19. Deve arriva lei? Dalla mezza. Dalla mezza, ecco, anche lei, l'adrenalina a quanto è? A cento. L'adrenalina. Che risultato vogliamo portare oggi? È un risultato buono, adesso vediamo. Da quanti anni che corre lei? Dieci anni. Come nasce questa passione? Io sono meccanico, allora mi sono divertito a fare una macchina, motore, tutto da me. Questa è una 126, vero? 126, gruppo 600. Siamo quasi pronti per la partenza. Sì. Quale scuderia arriva? Da Cosenza Corsa, da Cosenza. Adrenalina ce l'abbiamo? C'è, c'è abbastanza. Vogliamo vincere, portare un risultato a un buon risultato? Ci proviamoci. Lo portiamo questo risultato oggi? Benvenco, sì.